Ciao a tutti da Vittorio, appena parlato Fabiani, Angelo Fabiani il direttore sportivo della Lazio è intervenuto a Lazio Style Channel, la radio ufficiale della Lazio e ha spiegato quello che è successo con Kamada o almeno ha detto la sua versione, poi bisogna vedere se la versione è reale o meno e mentre tutti parlano di mancata clausola, lui dice che in realtà il problema è stato un altro ovvero che Kamada e gli agenti di Kamada sono venuti ieri nella riunione e anziché parlare di rinnovo eccetera hanno chiesto di ripetere il contratto dello scorso anno, ovvero un altro anno di contratto con l'opzione a fine stagione di Kamada di esercitare rinnovo oppure andarsene. Fabiani ha detto che questo era un ricatto e non accettava ricatti da nessuno e quindi quella era la porta e potevano andare via. Ha spiegato una cosa che io onestamente pensavo ma nessuno aveva mai detto, ovvero che Kamada era stato preso per sostituire Luisa Alberto Luisa Alberto lo scorso anno non si era presentato in ritiro, voleva andare via e quindi Kamada fu preso come sostituto di Luisa Alberto poi Luisa Alberto invece è rimasto e quindi Kamada è finito fuori dai titolari non so se questa è la versione reale, questo è quello che dice Fabiani e quindi finché non sentiremo l'altra voce ovvero il giapponese Kamada non sapremo mai quanto è vero. Fabiani è poi partito con la carica dicendo che qua sono tutti importanti e nessuno è indispensabile, che la Lazio non si fa più prendere in giro che i giocatori devono capire che la Lazio e la squadra fondamentale non sono loro la cosa importante però il discorso è che la Lazio oltre a Felipe Anderson ha perso un altro titolare tutti e due titolari stra-apprezzati da Tudor, Felipe Anderson e Kamada e quindi la situazione si complica e come ancora una volta Fabiani ha detto che qua devono finirle le vacche grasse che sfruttano la Lazio eccetera però intanto il risultato sul campo è stato mediocre. Poi ha parlato di Luisa Alberto dicendo che proprio in queste ore stanno valutando, il giocatore vuole lasciare, c'è una percentuale alta che succeda del resto lui ha manifestato il suo desiderio di andarsene e loro non voglio trattere chi non ama la maglia della Lazio chi non vuole giocare per la Lazio. Ha parlato di Guindusi, ha detto che Guindusi è un giocatore della Lazio e rimane alla Lazio quindi smettendo tutte le voci. Ha detto una cosa però secondo me preoccupante per quanto riguarda l'allenatore perché ha detto Tudor oggi è il nostro allenatore, non ha detto per il futuro eccetera e questo mi fa dubitare, mi fa riflettere, mi fa preoccupare perché evidentemente Tudor non è contento di Kamada e Felipe Anderson che vanno via, potrebbe succedere qualcosa. Ha parlato dell'età dicendo che la Lazio è una squadra anziana e quindi bisogna ringiovanire, ha detto che è finito il tempo delle vacche grasse, una società di calcio ci si deve stare come si deve, ha detto che si è finito un ciclo, che bisogna aprire un nuovo ciclo, che lui farà di tutto per migliorare questa rosa, farà un grande calcio mercato, staremo a vedere. Il risultato per adesso dice che invece il grande calcio mercato non c'è stato, dice che non è vero che c'è un grande esodo beh al momento Felipe Anderson è andato via, Kamada è andato via, Luisa Alberto ha chiesto la cessione Pedro ha chiesto la cessione, Guindusi vuole andare via, mi sembra che l'esodo ci sia e come e soprattutto dall'altra parte non sta entrando nessuno ed è questo il problema della Lazio Fabiani può parlare, può dire quello che gli pare, poi bisogna vedere se è reale quello che dice o solo un tentativo di difendere la propria squadra, la Lazio al momento la situazione per il tifoso è preoccupante perché hai perso un altro giocatore che l'allenatore chiedeva fortemente di rinnovare soprattutto hai perso Kamada e non hai ancora il sostituto e non lo so, si parla tanto di Shauna ma l'annuncio non è arrivato e questo ovviamente non fa altro che creare problemi il problema, il timore del tifoso è un forte ridimensionamento la Lazio ha perso due titolari, vanno sostituiti con giocatori di qualità giocatori pronti, giocatori da Champions League riuscirà Fabiani a prenderlo? Vedremo però al momento siamo sotto di due titolari forti Felipe Anderson lo scorso anno quando la Lazio è arrivata a seconda è stato un grande protagonista Kamada nella seconda parte di stagione con Tudor è stato un grande protagonista insomma sicuramente il mercato non parte bene Fabiani parla parla parla, vediamo i risultati c'è un'estate per convincerci, c'è un'estate per dimostrare che non è solo chiacchiere ma anche risultati sul campo anzi in questo caso fuori dal campo vediamo perché al momento direi che i risultati non sono arrivati ricordiamoci che il direttore sportivo Fabiani è quello che in questo inverno a gennaio ha detto che questa Lazio ha una rosa perfetta che non si può migliorare e poi abbiamo visto come la Lazio ha finito la stagione ben lontano dall'obiettivo Champions quindi la rosa era da migliorare però Fabiani parla, quest'estate, ha la grande chance di dimostrare di essere un buon direttore sportivo e di non riuscire nell'impresa di farci rimpiangere e glitare staremo a vedere voi che ne dite tutto ciò, scrivetelo un commento qua sotto e mi raccomando se vi è piaciuto questo video mettete mi piace grazie